Se sbatto le palpebre il video finisce Vabbè noi facciamo se chiudo gli occhi Mi raccomando ragazzi è solo una cosa Durante il video so chiuderò qualche volta gli occhi Ma non completamente quindi mi raccomando state attenti Ok ragazzi da ora se chiudo gli occhi il video finisce Non potete capire quanto sia difficile questa challenge Nonostante possa sembrare veramente stupida ragazzi È veramente difficile A parte che non vedo perché non ho né lenti a contatto né occhiali Non ho messo le lenti a contatto perché altrimenti questa challenge sarebbe ridurata due secondi Questo vuol dire che a grandi distanze Io non vedo assolutamente nulla Ma neanche troppo grandi in realtà Anche basse Comunque andiamo Dovrei scendere un attimo giù Vediamo Ragazzi io vorrei almeno resistere un minuto Perché prima ci sono riuscito Però non credo che ci riuscirà sinceramente di nuovo È un po' troppo tra l'altro un minuto Forse erano 50 secondi Non lo so ragazzi Comunque intorno al minuto 10 secondi più 10 secondi meno Insomma siamo là Sento un po' di cose in giro Ma non sento nemici Cioè sento nemici ma non li vedo Capirete bene il perché Allora Calmi Oh granate belle Fresche Calmi tutti Calmi tutti Una kill almeno me la devo fa' Una kill Non te vedo Non t'avevo visto Fermati Perché vi muovete così tanto Io vedo solo figure Capito Figure lontane Nella mia testa Cioè nei miei occhi Ok ok Sono sopra Sono sopra Sono sopra Non ti avevo visto Vabbè ragazzi Es che palle Vabbè ragazzi Non ti avevo visto Vabbè ragazzi No ti avevo visto Vabbè ragazzi